Musica Sappiamo grazie alla presenza della Comen che il tema a cui dedichiamo questa manifestazione è la prevenzione di patologie tumorali come il cancro della mammella, come il cancro del colorello. Come amministrazione l'abbiamo voluta col cuore perché significa sensibilizzare sempre di più le persone a stare attenti al proprio corpo, alla propria salute. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.